Bella peeps Allora l'ultima volta v'ho lasciati con l'inizio del fight con questo affare che ho provato circa come si chiama? Spirito del decadimento ci ho provato circa 2000 volte a farlo e dopo di perché ho scoperto che bisognava uccidere questi obelischi prima quindi adesso che facciamo? Facciamo uno sneaky sneaky verso gli obelischi vediamo di levarli dalle palle uno alla volta senza farci sgamare così iniziamo il fight in maniera proficua con un po' meno di difficoltà però mi sa che qua mi sgama quando passo devo fare forse il giro da questa parte vediamo bene secondo me passare qua è rischioso faccio il giro di là non mi ricordo l'ultima volta che ho testato come è andata l'orso mi si è incastrato in tutto questo ok easy peasy bene andiamo cominciamo con le resistenze con tutto quanto facciamo una bella disintegrazione non è pure chi ha le botte che prendono sti ragazzi allora anche questo bene facciamo tutte le difese possibili immaginabili ah lo fa cono questo vabbè evoca questi lei può anche fare un'altra disintegrazione perché l'ultima volta che abbiamo provato a farlo sto coso spawnava tutti gli animali i volanti come si chiama non le essenze i eh quei cosi della pioggia della sabbia eccetera da tutte le direzioni se riusciamo a distruggerli invece vedete che almeno per il momento non sta evocando niente di strano facciamo anche un po' di difesa poi mettiamo un po' di cure giù ma mi ha interruttato tacci sua ah no 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 need non lo devi fare due volte ok adesso possiamo pure andare con con un po' di curette ah lei facciamo fare questo così prolunga i buff bene e adesso procediamo con i buff di danno ce la dovremmo fa' stavolta e poi c'è un boost di speed qualcosa di arrogante compagno animale al fianco del coso no tra l'altro compagno animale sta qui e non si muove più è impazzitissimo ah no eccolo eccolo è tornato bene allora mettiamolo qua dietro e a lei facciamo fare questo che fa un sacco oh vabbè è impazzito il gioco vabbè lo stiamo distruggendo pensavo di metterci di più onestamente bella anche la musica tra l'altro ui 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 vabbè sciallissimo sciallissimissimo ormai è andato dai vabbè vabbè però non si sa mai facciamo facciamo così che non si sa mai no invece bam ma rallentatore che fa esplode no scomparso ui prendi tutto è continuo oh ho sbattuto sul microfono benissimo cioè subito in pratica ah tra l'altro specifichiamo che sto dall'inizio del gioco sto giocando a path of the damned quindi è il massimo della difficoltà è stato abbastanza tranquillo ho avuto difficoltà all'inizio però adesso abbastanza scialla avranno bisogno di riposare sti ragazzi immagino le ama che certo non danno bonus però vabbè f5 andiamo a vedere il prossimo nemico tanto a quanto ho capito il dlc si dipana tutto quanto in schiaffi stavo premendo journal per vedere invece niente poi ho già una delle mani sull'orlo del piedistallo sotto la ciotola d'acqua scintillante bene avessi potuto inviare anche una lettera come posso aiutarti cos'era questo ask altrezza 9 fa scorrere il palmo della mano sopra la pietra consumata choir davvero c-h-o-i-r si pronuncia choir questo non lo sapevo coro di voci più forte di qualsiasi cantore o druido piega gli angoli della bocca in un leggero cipiglio adesso raga io non sono studiato come voi per quanto abbia fatto lingue ma cipiglio devo chiudere pure whatsapp il cipiglio ha un'ostentazione di severità ok non mi aiuta comunque sia il la creazione di un cipiglio facciale ah no aspetta c'ho ok questo qui bene sorry continua c'è c'è qualcosa pure qua dietro secondo me quindi c'era qualcosa sotto per questo è chiamato un osservatore diretto seconda sfida ok da dove credi che sia meglio iniziare ah bene il suo tono è riverente tecchina leggermente il capo davanti a te ok cosa sono ste facce della caccia venerato principalmente da una piccola sottoclasse di Aumawa mi sa che già l'avevamo letto questo animisti nativi di mortafiamma noti anche come facce della caccia sono stati spesso confusi con i seguaci di Galawain si ok l'avevamo già letto ok che cosa comporta questo rito ok quindi sono 5 in tutto ah le faces sono quelle al piano di sopra ok ok come fanno le facce a fornire queste prove miscio è arrivato ginger vieni qua ciccio il mio micione un giorno ve lo farò anche vedere allora vediamo un po' no ho doppio cliccato vabbè non credo fosse niente di utile ah cantore abilitano molto diverse da quelle che possiedi tu e a volte parli delle facce come se fossero un gruppo e altre volte come se fossero un singolo individuo eh no niente devo devo dare retta al gatto allora vediamo un attimo devo pausare e riprendere il video tra un secondo e becca ho dovuto dare da mangiare a ginger stavo impazzendo povero ciccio eppure aveva mangiato un'ora fa io sono legione quindi vabbè la gente muore per questo vabbè quindi win win situation proprio vabbè che tipo di prove no you don't say interessante per gli spiriti mi devo ricordare quello che mi aveva detto Ray che mi dimentico sempre di usare la spell anti spirito io e i miei compagni combattiamo come una squadra non rischierò la mia vita in un combattimento da solo ahah ahah figo figo ahah beh iniziamo dunque cos'è questo religione ok scivolare la mano lungo il bordo della fonte d'acqua scintillante andiamo a osservare le acque ma prima salviamo il gioco excuse prova dei naga pretendenti che sopravvivono agli elementi dovranno poi resistere ad una battuta di caccia naga se individualmente sono paragonabile ai kit come forze e dimensioni i guerrieri gli arcieri e gli sciamani naga lottano come un branco unito e possano fare facilmente a pezzi gli sprovveduti te ne 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 e rieccoci qui a parlare con le facce della caccia c'è sempre c'è sempre poi la gente fomentatissima che scommette sulla nostra morte ok bini vabbè easy quanti sono nagarshare mago naga ah i maghi l'hanno messi dietro bastardi hanno fatto pure la formina apposita eh maledetti mi conviene approcciare da un lato bene allora partiamo no però loro tre devono stare un po' più avanti allora benissimo benissimo cominciamo con no aspetta cominciamo con questi subito subito te 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 e facciamo scivolare tutti quanti per terra rapidi rapidi ok e rifacciamoli scivolare nuovamente perché qua mi sa che ci serviranno fior di cc e tu evoca questo qua buttiamoci pure una curetta subito subito stiamo ancora a scialle questo che poi questo mi dimentico sempre che fa precisone forse gli alleati mentre i nemici infatti i nemici hanno una penalità bella tutti per terra esissimo proprio avrei dovuto tirare subito quello no sai che serve questo però mi sa che me la schioppano servirebbe un instant cura se riesce a tirarsela bellissima perfetto perfettino proprio abbiamo fatto fuori i tank tutta discesa questo è andato vai cos'è quella roba blob di paludia buffo no ne mancano ancora due questo è andato bene adesso scoppiamo quest'altro a lui posso anche rimettere la marzocchia vai teleport zio curati ben fatto però sta veramente subendo brutto io farei così ha preso 3000 bot vai sparisci un pochino oh shit perchè questa roba aggiuntiva è arrivata questo non va bene neanche per niente ok è il momento di evocare anche noi un po' di roba la scoria e due blob di magma vai vai a poca roba a poca roba ci scialiamo ci scialiamo dragone adulto è arrivato al cielo questo non mi fa impazzio onestamente anche i giganti adesso non sarebbero male che me non ho però vabbè ho evocato quell'altra roba quindi per il momento va bene così e lei dovrebbe andare più avanti fare questo veloce veloce ben fatto e poi tirare delle cure che la situazione è abbastanza grim no ci lo sta facendo questa impedita maledetta ma lei è pure strunnata giustamente la situazione non è non è amichevole qua vediamo se riesco a quanto c'ha lei di cosa ancora 7 secondi di ritirata male male tacci i vostri due dry qua stiamo a prendere brutte pizze vai 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 bello optimus vediamo se riesco a prendere a fregarmi i dragoni lei mi sa che c'ha bisogno di essere riparata forse pure ala però se riparo pure ala mannaggia quanto dura questo 35 secondi no avecelo out 35 secondi è troppo ah però vedi che un dragone gliel'ho fregato però pure ala sta nella merdissima no perchè lei sta pascolando ma che cazzo stai facendo quello devi fare pedita maledetta vediamo se riesco a ma perchè continua ad andare a pascolare come una imbecillissima vabbè vabbè impazzita devi restare questo finiscerissima finiscerissima ok stiamo messi decisamente meglio adesso bene i draghetti si stanno scannando tra di loro eh eh no quello il cosetto deve morire per forza allora vediamo un po' vai vai di coso di charm please belli ce li siamo rifregati ah no 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 ok questo l'abbiamo spaccato però servono cavolo servono disperatamente delle cure desperately proprio oh shit no come didn't work l'hanno l'hanno interruttata ma che sola di me oh shit troppi draghi no vabbè devo rifare il fight ne hanno evocati veramente troppissimo guarda lì che bordello 8000 draghi ma come cazzo è sta cosa ne hanno ruptato pure lei troppi draghi si cioè che poi non è detto che non ce la facciano qua eh perché ala praticamente non riescono a colpirlo al che non è male il rest mi sa che l'ho usato no ce l'ho ancora il rest guarda lì guarda lì aspetta aspetta potremmo fare un recuperone qua attenzione restiamo lei che resta poi poi lei può arrestare questa qua vai 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 dai che gliela famo è vero che è vero che lui non può usare pozze dannazione hai botte lei la sta tirando la sua palla di fuoco però dai che questa muore no è morta scittissimo scittissimo non c'ho ah no ce l'ho ancora il rest però mi sa che mo devo stare attento perché se l'arresto adesso è capace che stira credo eh così a occhi e croce madonna è recuperissimo ah lui è sbroccatino che io invento mo e non c'ho praticamente modo di di fare una sega dovete proprio distruggerli alla grande eh vai 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 che reggiamo vai vai paolino ma dove ha la eccolo vai vai che i draghi sono distrutti su 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 c'ha gatti una pozza ne ha evocato un altro tacci sua però devo tenere su lei vai vai che la sto tenendo su ala va a intercettare questo pezzo di merda ehi che bel fight wow 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 vai 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 vai